Buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, consueto e ben noto disordine della mia libreria. Allora, cari signori, visto che ci abbiamo preso gusto, torniamo a parlare di nuovo dei carri armati inglesi, nella fattispecie di quello che fu finalmente, forse, il primo carro britannico in grado di combattere, se non quantomeno alla pari con i mezzi tedeschi, diciamo quantomeno di non mandare i propri equipaggi al macello, ok? Perché parliamo, cari signori, di questo qui, il Chrysler Tank Cromwell, ok? La fonte è il quinto volume della seconda dell'enciclopedia sulla seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, edita da Curcio, editore, negli anni settanta. Insomma, il Chrysler Tank Cromwell, ripeto, fu il primo mezzo corazzato inglese all'altezza delle controparti germaniche, è, ok? Non era un carro eccezionale, era un carro discreto, era un carro che quantomeno non dava i problemi del Churchill, non dava i problemi di tutti i Chrysler Tank, di tutti i carri armati incrociatori che lo avevano preceduto. Allora, lo sviluppo del Cromwell, che, ripeto, non era un caccio eccezionale, ma fu finalmente il primo mezzo corazzato che mise gli inglesi in grado di battersi in condizioni di quasi parità con i tedeschi, con i corazzati tedeschi. Allora, quando i Chrysler entrarono in servizio in Africa settentrionale, ci si avvide che le caratteristiche di questi ultimi non erano più rispondenti alle esigenze, principalmente perché esse erano state tranquillamente superate da quelle dei più recenti modelli tedeschi. Si preferì, anziché progettare un nuovo corazzato, insistere ad apportare modifiche ad una serie già esistente. Probabilmente i motivi che spinsero gli organi competenti a questa decisione furono di carattere logistico e organizzativo. Certo è che si rivelarono causa di una notevole perdita di tempo, in quanto dovranno passare molti mesi prima che sia disponibile un nuovo carro dalle varie caratteristiche. Allora, tra il Crusader, il carro prescelto per le modifiche e il Cromwell, avremo infatti due modelli di transizione, ovvero sia il Cavalier, di cui vi parlerò con molto divertimento, e il Centaur, che specialmente nel caso del Cavalier si riveleranno un fallimento totale, uno dei tanti dell'industria carrista britannica. Allora, come ho già detto più volte, parlando con l'amico Gianluca Bertozzi, grande appassionato, estremamente competente in fatto di armi, armamenti e tecnologia, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, l'Inghilterra si trovò con l'acqua alla gola nel 1940 dopo Dunkirk. L'esercito metropolitano era stato malamente disfatto in Francia, aveva perso tutto l'equipaggiamento pesante o quasi, quindi l'industria fu costretta a continuare a produrre quello che c'era, ritardando nel tempo lo studio e l'adozione di nuovi modelli, modelli nuovi che però non furono quasi mai all'altezza della situazione. ripeto, vedi i Crusader, vedi, insomma signori, ne ho già parlato, vedete aborti meccanici come il Covenanter, insomma ne abbiamo già parlato signori, comunque sia, Cavalier e Centaur che furono il ponte tra il già non eccezionale Crusader e il nostro Cromwell, eccolo qua, ripeto, furono due clamorosi fallimenti, ma il Cromwell alla fine si rivelò, diciamo, una buona soluzione ponte. Allora, ripeto, il Cavalier fu un fallimento, il Centaur avrà occasione di essere impiegato ma limitatamente allo sbarco in Normandia perché per il resto non è che fosse un granché e ne abbiamo già parlato in un altro video. Fra l'altro lo scafo del Centaur fu utilizzato per elaborare alcuni di quegli strani mezzi corazzati ausiliari che accompagneranno le ondate delle truppe da sbarco sulle insanguinate spiagge francesi. Allora, il Cavalier grosso modo era un Crusader con una nuova torretta. Il Centaur invece era sempre un Crusader, quindi con tutti i problemi del caso, ma con delle modifiche al cambio e con degli accorgimenti volti a permettere, appena fosse stato possibile, l'adozione del nuovo motore Rolls-Royce Meteor, questo motore che in quel momento era ancora in fase di realizzazione ed era la versione terrestre del superlativo Rolls-Royce Merlin, in pratica il motore che equipaggiava simpatici aeroplanini come lo Spitfire, come il Lancaster e come sua maestà il Mustang, la Cadillac dei Cieli, con la versione costruita dalla Packard in America. Allora, quando finalmente il Meteor fu pronto, si provvide immediatamente alla sua installazione sul Cromwell. Contemporaneamente venne sostituito finalmente il pezzo da 57 mm che costituiva l'armamento principale del vecchio Crusader. Questo pezzo infatti iniziava ad essere superato e te credo perché non tutti possono avere il grandissimo colpo di fortuna, per dirlo con un giro di parole, di beccare un Tiger all'anello di torretta bloccandogli la rotazione e l'elevazione delle armi. E sapete che mi riferisco al Tiger 131 del Tank Museum di Bovington, ma torniamo a noi. Dicevo, il pezzo da 57 mm iniziava a essere superato e tra l'altro presentava il gravissimo difetto di non poter sparare munizionamento di fabbricazione americana in quanto gli Stati Uniti non ne producevano di quel calibro. Perciò, con molta intelligenza per motivi logistici, venne studiato un nuovo cannone ottenuto partendo dalla base del vecchio 57 mm, con un calibro da 75 mm come quello dello Sherman americano per sparare gli eccellenti proiettili americani. Il Cromwell è nato così a questa maniera. In pratica fu il più importante carro inglese del conflitto. Aveva una sagoma che non è che si distaccasse molto da quella dei carri che lo avevano preceduto. Ma questa volta il carro aveva, contrariamente agli altri, un buon armamento perché il nuovo 75 mm derivato dal 57 era oggettivamente un'ottima arma e aveva anche una buona mobilità, finalmente con un motore affidabile, finalmente con un motore adattato decentemente all'uso terrestre, perché ricordiamoci non è poi così facile adattare un motore nato per tutt'altre cose all'uso sui carri armati. Occorre depotenziarlo perché insomma mettere su una trasmissione terrestre un motore da 1100 cavalli e passa, insomma ce ne vuole. Il Meteor era un Merlin depotenziato e adattato all'uso terrestre. Quindi, ripeto, meno potenza. Una migliore versatilità all'uso del gas perché, come dire, un conto è dare gas con la manetta come si fa con l'aereo. Un conto è dare gas col pedale come si fa sui carri armati. È tutto un altro tipo di guida, capite anche voi. Quindi il Meteor, il motore Meteor, doveva resistere ad un uso molto più brusco del gas e garantire non tanto la potenza ma la curva di coppia, che per un carro armato ma anche per un trattore è assolutamente fondamentale. Quando si parla di carri armati o anche di trattori, sono contadino quindi è il mio campo, l'importante non è solo la potenza in cavalli vapore, in HP o in kilowatt, no? L'importante è anche, e in certi casi soprattutto, la cosiddetta curva di coppia che deve essere il più costante possibile. E dopo questi adattamenti il Meteor fu messo sui carri armati e si riuscì a venire a capo finalmente dei tanti problemi che avevano offritto i corazzati inglesi, pensionando finalmente lo sceno abominevole e rivoltante motore Nuffield Liberty L12, che aveva praticamente azzoppato tre quarti dei carri inglesi prodotti fino a quel momento. Allora, dicevo, con il passare del tempo però si resero necessarie ancora delle migliorie e si provvede a sostituire il cannone con un nuovo pezzo prodotto dalla Vickers, sempre da 75 mm, che fu montato previa una ristrutturazione della torretta. Questa nuova versione del Cromwell fu denominata Comet e fu finalmente e divenne sicuramente il miglior carro inglese della seconda guerra mondiale, anche se usato soltanto dal 1945 in poi. Allora, del Cromwell durante la guerra ne vennero costruiti 410 esemplari, altri 200 verranno modificati come cacciacarri e dopo la fine della guerra alcuni Cromwell modificati verranno ceduti ad altri eserciti, tra cui quello austriaco e quello giordano. Era un mezzo da circa 28 tonnellate, era lungo poco più di 6 metri, largo 2,90 metri, alto 2,5 metri con una corazzatura massima di 101 mm sulla piastra anteriore. Il motore era, come ho detto, il Rolls Royce Meteor da 570 cavalli e raggiungeva la più che rispettabile velocità massima di 60 km orari. Aveva 278 km di autonomia, un equipaggio di due persone. L'armamento era quello classico, come ho detto il 75 mm derivato dal vecchio 57, in grado di sparare il munizionamento americano e due mitragliatrici da 7,92, le Besa per i carri armati che curiosamente sparavano lo stesso munizionamento tedesco. Che vi devo dire? Aveva una dotazione di 64 colpi per il cannone da 75 e circa 5.000 colpi per entrambe le mitragliatrici. Superava una trincea larga 2,30 metri, aveva circa un metro di... poteva superare senza troppi problemi un gradino da un metro e un altro metro era più o meno il livello del guado. Insomma, aveva delle prestazioni non propriamente scarse. Logicamente, ripeto, il molto migliore del Cromwell fu il successivo Comet. E poi, poco dopo la fine della guerra, entrò in servizio il superlativo Centurion, ripeto, molto probabilmente il miglior carro armato, uno dei migliori carri armati di tutti i tempi. Allora, ripeto, le difficoltà dell'industria inglese nello sviluppare nuovi mezzi corazzati affidabili, nuovi carri armati affidabili, ha diverse valutazioni, ripeto, valutazioni organizzative, produttive e logistiche. Per i primi anni della guerra, gli inglesi furono costretti a continuare a produrre quello che avevano e a cercare di migliorare quello che avevano, perché l'industria non riusciva a tenere il passo delle nuove necessità operative. Il discorso è lungo, ma se ci fate caso è abbastanza plausibile. Dopo Dunkirk, in cui fu perso praticamente tutto il materiale pesante, occorreva riequipaggiare da capo l'esercito metropolitano inglese. E con cosa lo fai? Devi studiare da capo nuovi mezzi. No, oggettivamente devi cercare di ripianare le perdite producendo quello che c'è e derivando da quello che c'è nuovi mezzi che siano aderenti alle nuove possibilità, insomma alle nuove esigenze operative. Insomma, fu molto 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 difficile, ci vollero anni, ci vogliono clamorosi passi falsi. Vedi il Covenanter, vedi anche il Cavalier, vedi anche il Valiant, il Valiant, signori, signori, ne ho parlato qualche giorno fa, il Valiant, pensateci, pensate al Valiant. Però, alla fine, riuscirono a ottenere un mezzo che, anche se rispetto all'affidabilissimo Sherman aveva qualche problema di manutenzione in più, era pur sempre un mezzo molto più all'altezza della guerra moderna rispetto a quasi tutti quelli che lo avevano, a quasi tutti i carri made in England che lo avevano preceduto. Ripeto, il Cromwell non era un carro perfetto, non era un carro propriamente riuscitissimo perché continuava ad avere certi difetti di impiantistica, di ergonomia, di sistemazione dell'armamento, della strumentazione del motore che avevano già afflitto le serie di carri armati precedenti, ma almeno finalmente funzionava decentemente e non aveva bisogno di inserire la retromarcia a martellate e soprattutto non aveva il Nuffield nel cofano motore. Signori, signori, è già qualcosa, diciamoci la verità. Insomma, Chrysler Tank Cromwell, il primo carro britannico all'altezza della situazione. Non un mezzo perfetto, non un grande mezzo, ma quantomeno meno peggio di altri, sicuramente migliore rispetto al nostro P26-P40 che come ben sapete era una ciofieca, diciamoci la verità. Piccola curiosità. Come vedete il Cromwell aveva una sagoma squadrata che in certe condizioni di visibilità lo rendeva piuttosto somigliante al tigre. In condizioni di scarsa visibilità e, mettiamola così, di notte, da lontano, in situazioni come quella del Boccage Normanno, dove veramente non si vede da qui a lì, dove veramente si fa davvero fatica a distinguere gli amici dai nemici, il Cromwell costò parecchie perdite ai reparti di tigre tedeschi. Mi è capitato di leggere alcuni rapporti, sono disponibili online, li trovate. Signori, vi devo dire tutto io, provate a cercare su Google, cercate su Google i rapporti sulle perdite tedesche durante la battaglia del Boccage in Normandia e scoprirete una simpatica cosa che molti reparti di tigre ebbero gravi perdite perché, visti di fronte in certe condizioni di luce nel Boccage, dove veramente anche in piena estate è quasi buio e la visibilità massima è sui 30-40 metri, visto da davanti un tigre con la sua sagoma grossa e squadrata non era poi tanto differente da un Cromwell. Quindi che cosa succedeva? Che gli artiglieri tedeschi degli anticarro, con i loro bravi Pac-40 ben appostati nel Boccage Normandio, vedono arrivare da lontano una sagoma squadrata, Achtung! Cromwell! Pum! E sparano! Centro, centro, abbiamo fatto centro! Il problema è che, finito il polverone, senti bestemmiare in tedesco e ti accorgi che hai appena fatto fuori un tigre nuovo di Pac-40 di un battaglione delle SS e il comandante di quel carro armato sta bestemmiando contro di te nella lingua di Goethe. Per dire, perché ricordiamoci sempre una cosa, i casi di fuoco amico in guerra ci sono sempre stati, sono sempre successi, sono sempre accaduti, ok? È successo ai tedeschi, è successo agli americani, è successo anche noi italiani e russi, i casi di fuoco amico in guerra ci sono sempre stati, perché quando si combatte e soprattutto quando si combatte sul serio, quando sai di avere di fronte gente che non vede l'ora di farti la pelle, tu per prima cosa fai, tu non pensi neanche, tu per prima cosa spari e poi fai domande. E questo, diciamo, costò ai tigre dei battaglioni di carri pesanti tedeschi perdite piuttosto sensibili in Normandia, perché in certe condizioni il tigre assomigliava al Cromwell. Ecco qua, insomma, ripeto, Chrysertank Cromwell, un mezzo sicuramente non eccezionale, sicuramente non riuscitissimo, un mezzo che aveva molti difetti ma finalmente, finalmente nel 1943 entrò in servizio, finalmente i carristi inglesi avevano un carro di produzione nazionale, se non buono, quantomeno decente, quantomeno usabile. Poi, logicamente, essendo disponibili in massa gli Sherman, gli inglesi preferirono usare gli Sherman. Logicamente, quando fu possibile installare sugli Sherman il superlativo pezzo da 76,2, il 17 libre, signori, ottennero il Firefly e ciao! Anzi, ciaone proprio, cari tigre! Che vi devo dire? Insomma, ripeto, Chrysertank Cromwell, finalmente un mezzo decente per le forze corazzate britanniche. Un mezzo discreto, un mezzo quantomeno utilizzabile, anche se non privo di gravi difetti. Tutto qui. Quindi, come sempre, cari signori, aspetto le vostre considerazioni, come sempre, aspetto i vostri commenti, come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre, di nuovo, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto, ciao!